In questo caso attenzione a Phipps che è andato a spingere il portatore d'acqua argentino, poi è arrivato da lontano della fuente Però è eccessiva anche la reazione di Phipps che va a toccare il portatore d'acqua con la scritta vuota all'argentino Quanto c'era in alto Veramente un gesto sciocco